E allora nipotini un assaggio del video che viene dopo Prima ci vediamo Alessandro Basciano due secondi e i suoi bellissimi capelli E' un baragazzo vuoi essere già da dirlo Poi arriva Céline, prima è a casa con Sofì Maneggia un po' il biberon, fa le sue cose sul tappeto, i suoi giochi Dopo viene portata in giro per Milano dalla nonna Valeria Eccolo Ci tenevo anche a farvi vedere queste foto di Sofì Alessandro sono stati paparazzati ancora giorni fa Poi non ho più avuto occasione di farveli vedere insieme Era quel giorno che erano a Luna Park Alessandro non si è mai fatto vedere sulle foto di Sofì Però in realtà i giornali l'hanno paparazzato Questa invece è Sofì in un shooting Grazie a tutti